Brindisi, una città importante sotto l'aspetto sportivo chiaramente, Brindisi avrà sicuramente per lo stadio, oltre allo stadio anche per opere di contesto del Palapentassuglia. 10 milioni di euro per Brindisi, 6 per il rifacimento dello stadio Franco Fanuzzi, 4 per le opere di contesto del Palapentassuglia, il commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchiona hanno firmato presso la cittadella delle imprese di Taranto il protocollo d'intesa definitivo. Siamo molto contenti di aver raggiunto questo obiettivo perché l'impiantistica sportiva Brindisi è stata un po' trascurata nel corso degli ultimi anni e quindi questo rilancio è assolutamente ben augurante, non solo per i due interventi già previsti su cui fermeremo questo protocollo, ma noi speriamo anche per una maggiore attenzione futura a tutta l'impiantistica sportiva, soprattutto quello che riguarda le società di l'intantistica. Un'opportunità importante per Brindisi che, chiarisce il sindaco, non andrà in contrasto con i lavori che hanno già interessato il Fanuzzi la scorsa estate. Sono praticamente i giochi di Taranto, con capitale Taranto, ma che chiaramente vedono protagonista tutto il grande Salento, quindi Brindisi, la città di Brindisi, Lecce e tanti altri comuni del territorio importanti. Siamo arrivati chiaramente a 275 milioni e quindi per questo sicuramente il Governo ha impegnato non soltanto i primi 150, ma la determinazione a portare avanti con altri 125 milioni impegnati ci hanno dato la possibilità di fare tutto quello che dobbiamo fare.